Ciao ragazzi, ben ritrovati a un nuovo appuntamento, quello del giovedì con il Listen and Translate, appuntamento durante il quale ci dedichiamo alla traduzione dei testi delle canzoni, le canzoni che più vi stanno a cuore e che potete sempre continuare a segnalarmi per la traduzione nei commenti al di sotto dei video di YouTube o tramite la mia pagina di Facebook. In particolare, quest'oggi do seguito alla richiesta di Antonio che mi chiede Da notare anche che ha scelto come immagine e profilo William e Kate e il loro primo genito, sono veri veri british, come non accontentarlo. E quindi il brano che quest'oggi andiamo a tradurre è We are the champions dei Queen. Questo brano è stato composto da Freddie Mercury nel 1975 ed è un brano che doveva essere inserito nel quarto disco della band, A Night at the Opera. Solo che secondo Mercury, come tipo di musicalità, si andava un po' a scontrare con quella delle altre canzoni che erano presenti in quell'album e quindi decise di tralasciarlo e di inserirlo in quello seguente che è News of the World, pubblicato poi nel 1977. Come tutti sappiamo, è una delle canzoni più conosciute della band ed è stata scritta come un inno alla vittoria, intesa come la rivincita dopo un momento difficile, quindi il riscatto che si ottiene con il sudore e con il sacrificio. Ma per quello che è il testo del suo ritornello, che appunto siamo i campioni, siamo i campioni del mondo, viene per lo più utilizzata come colonna sonora per celebrare le vittorie sportive. Ma passiamo subito alla traduzione del testo. La prima frase del brano è I've paid my dues. Quindi I've, forma contrata di I have, Paid è il participio passato del verbo to pay, pagare, che è un verbo irregolare, il cui paradigma è appunto to pay, paid, paid. Quindi in questo caso la forma verbale che è stata utilizzata è un present perfect. Quindi io ho pagato i miei, aggettivo possessivo, dues, questa è la S del plurale, due è il debito, dues debiti, quindi io ho pagato i miei debiti. Time after time. Tempo dopo tempo, inteso come una volta dopo l'altra, di volta in volta. I've done my sentence. Anche qui riconosciamo la stessa forma verbale precedente, un present perfect, quindi forma contratta dal verbo have, più il participio passato dal verbo to do, che è appunto un verbo irregolare, to do, did, done, è il participio passato. Quindi io ho fatto, mai, aggettivo possessivo, la mia sentence. Sentence è un termine che può essere, può avere diversi significati. Il più comune è quello frase, cioè traduce il termine frase, ma in questo caso ha un altro significato, che è quello di sentenza, inteso come sentenza di condanna. Quindi io ho fatto la mia condanna, la mia sentenza, più correttamente traducendola in italiano, quindi io ho pagato, ho scontato la mia condanna. But committed no crime. Ma il verbo to commit è il verbo commettere, si scrive commit, d'a-m-i-t, in questo caso è un simple pass, quindi abbiamo l'aggiunta della desinenza ed, ma tra le modifiche ortografiche sappiamo che quando il verbo finisce con una consonante preceduta da una vocale, la t finale viene raddoppiata, quindi diventa appunto committed. Poi abbiamo il no, che è il cosiddetto pronome indefinito, crime, crimine. Quindi il termine no, corrisponde al nostro italiano nessuno o niente o alcuno. Si utilizza nelle frasi, al posto di any, che ha lo stesso significato, quando la frase è strutturata in forma affermativa, vedete, non c'è la presenza di alcuna negazione, non c'è il not, ma il significato della frase è di tipo invece negativo. Qui la traduzione è non ho commesso alcun crimine, quindi c'è il non, non ho commesso. Non essendo inserito il not, dobbiamo utilizzare per rendere la negativa il no. Se invece avessimo utilizzato il not, mantenendo quindi inalterata il senso della frase, la nostra frase sarebbe diventata but I didn't commit any crime. Abbiamo messo la negazione e quindi il no deve trasformarsi in any. and bad mistakes è cattivi errori, mistake è errore, mistakes è la S del plurale, quindi è cattivi errori e brutti errori, brutti sbagli. I've made a few. Anche qui è un present perfect. I have made, made è il participio passato dal verbo to make, made, made, il suo paradigma. A few. Ne ho fatti, a few. Allora, few da solo significa pochi, e ha una connotazione quindi comunque di tipo negativo. E few va ad accrescere il significato negativo di quel pochi, per intenderci. Supponiamo che la frase fosse stata riferita agli errori, I've made few senza la a. Significherebbe tradotto ne ho fatti pochi, quindi in realtà è come dire, io ho fatto degli errori ma tutto sommato non sono stati tanti, sono stati pochi. Con l'aggiunta invece di e few, la frase assume il significato proprio opposto, cioè ne ho fatti un bel po, quindi non pochi ma tanti. Questa quindi è la differenza fra few and a few. I've had my share of sand kicked in my face. Quindi anche qui in present perfect, I have made my share, significa I have made my share, significa tradotto, ho avuto la mia parte, my share, la share è la parte, la quota di, ho avuto quindi la mia parte, la mia quota di sabbia, sand, kicked, il verbo to kick è dare il calcio, quindi calciata, kicked, al simple past, in my face, in faccia. Quindi ho avuto la mia parte di sabbia buttata in faccia, intendendo dire che ho avuto le mie umiliazioni, anche io ho subito le mie umiliazioni, and I need to go on and on and on and on and on e ho bisogno, ho la necessità di andare avanti, avanti, avanti. E qui parte appunto il famoso ritornello. We are the champions, my friends. Quindi noi siamo i campioni, amici miei, anche se mi sa che nell'originale del testo non c'è la S, a friends, my friends. Quindi siamo i campioni, amico mio. And we'll keep on fighting till the end. And we will keep, questa doppia L è la contrazione di will, il futuro, keep on fighting till, contrazione di until, the end. E quindi to keep on, significa continuare, c'è il futuro, quindi continueremo a lottare, fight, to fight è il verbo lottare, till sta per until, quindi fino alla fine, sotto inteso dei nostri giorni. We are the champions, noi siamo i campioni. Lo ripete poi nuovamente, lo ripete per due volte. No time for losers, quindi non c'è tempo, nessun tempo per i perdenti. Cause we are the champions, cause è la forma contratta di because, perché, nelle frasi affermative, noi siamo i campioni of the world, del mondo. E qui parte il secondo inciso, I've taken my bows, quindi to take a bow, significa fare l'inchino, quindi ho fatto i miei inchini, my curtain calls, curtain è il sipario del palcoscenico, quindi le mie chiamate al sipario, inteso come le mie chiamate alla ribalta, le mie chiamate in scena, you brought me fame and fortune, and everything that goes with it, you inteso voi, come il mio pubblico, brought me, è il simple pasta del verbo to bring, che è un verbo irregolare, il cui paradigma è appunto to bring, brought, brought, quindi mi avete, voi mi avete portato, avete portato a me, fame, la fama, la notorietà, and fortune, è la fortuna, inteso anche come fortuna economica, and è everything, tutto ciò, that goes, che va con esso, with it, quindi mi avete portato fame, fortuna e tutto quello che ne consegue, I thank you all, io vi ringrazio tutti, but it's been no bed of roses, allora intanto riconosciamo qui nella struttura della frase, la presenza sempre del pronome indefinito no, quindi sappiamo già che è una frase che ha un significato negativo, ma come struttura non c'è all'interno di questa la presenza del not, quindi ma non è stato, quindi non è stato un letto di rose, quindi vuol dire che anche se ho raggiunto la fame, la fortuna, la strada per arrivarci, non è stato come diciamo noi in italiano, tutte rose e fiori, no pleasure cruise, non è stata una crociera di piacere, quindi sottolinea ancora la difficoltà che ha dovuto superare, per poter raggiungere la fama e la gloria, io considero il mio combattere per arrivare alla fame e la fortuna, una sfida, una sfida, inteso come dinanzi, al, the whole, l'intero, l'intera razza umana, quindi è una mia sfida, è una sfida personale davanti a tutto il genere umano. And I ain't gonna lose. Qui siamo in presenza dello slang, o come abbiamo visto nella lezione di grammatica di martedì scorso, è una frase da relaxed speech, quindi, ain't gonna lose sta per I am not going to lose, quindi è il futuro intenzionale, quindi è non ho alcuna intenzione di perdere. And I need to go on and on and on e ho necessità di andare avanti, avanti, avanti. E qui riparte il ritornello che poi verrà ripetuto per due volte fino alla conclusione della canzone, quindi we are the champions, my friend, senza la S finale, e continueremo a lottare, a combattere fino alla fine dei nostri giorni, sottointeso. We are the champions, noi siamo i campioni, nuovamente noi siamo i campioni, no time for losers, quindi non c'è tempo per i perdenti, because we are the champions, perché noi siamo i campioni of the world, del mondo. Bene, e anche per quest'oggi è tutto con il Listen and Translate. Io vi do appuntamento alla prossima traduzione, sempre al giovedì, a partire dalle 14. Ancora una volta, se avete dei testi di canzoni che mi volete suggerire per la traduzione, potete segnalarli al di sotto dei video di YouTube nei commenti, oppure direttamente tramite la mia pagina di Facebook. Ci vediamo la prossima settimana. Bye! Bye! Ciao!